Tornano i programmi dell'accesso su Rai3 Piemonte, grazie all'accordo tra Comitato regionale per le comunicazioni e Rai, è infatti possibile per associazioni Onlus disporre di uno spazio gratuito e autogestito di 5 minuti sulle frequenze regionali della televisione di Stato. C'è tempo fino al 29 febbraio per presentare domanda per il bando relativo al primo trimestre 2016. Informazioni nella sezione dedicata al Corecom sul sito www.crpiemonte.it Grazie a tutti